Buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo degli appuntamenti emessi in programma dal Comune di Casoli per le celebrazioni del giorno della memoria 2020. La presentazione del libro di Livio Isaac Sirovic non era una donna, era un bandito, Rita Rosani, una ragazza in guerra. Livio Sirovic viene da Trieste dove è ricercatore associato, sismologo dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Noi oggi qui a Casoli lo riceviamo in veste di narratore. Oltre al libro che presentiamo questa sera, Livio Sirovic è autore di numerose pubblicazioni. Ha dedicato alle vicende della famiglia lituana della madre un volume dal titolo Cari, non scrivetemi tutto, gli Isaac, una famiglia in trappola tra Hitler e Stalin. In un altro volume ha ricostruito la storia della sezione CAI di Trieste, le cui vicende sono molto presenti anche nel libro di cui parleremo tra poco. Questo libro si chiama Cime irredente, un tempestoso caso storico alpinistico. Poi La notte delle faville, che è un romanzo storico ambientato nella carnia occupata dai nazisti e dai cosacchi nel 44-45. E inoltre è anche autore, insieme al botanico Fabrizio Martini, di un volume di didattica di Scienze Naturali. Non era una donna, era un bandito, si presenta come un romanzo, ma racconta una storia vera che si svolge anche nel nostro territorio, tra Casoli e Castelfrentano. E segue le vicende di ebrei triestini, che loro malgrado ne sono i protagonisti. Vi ricordo che Livio Sirovic, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 15 gennaio 2018, a Livio Sirovic è stata conferita la cittadinanza onoraria di Casoli. A questo proposito io chiamo l'assessore Liberata Colanzi per un saluto. Buonasera a tutti, come è stato già detto, Livio Sirovic è il cittadino onorario di Casoli. Lo ringraziamo per questa nuova visita, per la presenza in queste due giornate nella nostra cittadina, nella sua cittadina. Ricordiamo che esattamente due anni fa, il 27 gennaio 2018, gli veniva conferita l'onorificenza della cittadinanza onoraria di Casoli in virtù del libro di cui questa sera andremo ad esaminare più specificamente il contenuto e la portata, con le seguenti motivazioni. Livio Sirovic ha valorizzato per primo presso il grande pubblico la notevole importanza storica dell'archivio comunale di Casoli relativamente al periodo della Seconda Guerra Mondiale ed in particolare i documenti conservati relativi alla numerosa presenza di prigionieri ed internati ebrei, stranieri e di civili sloveni e croati, deportati in campi di concentramento ed internamento nel territorio italiano ed in specie abruzzese, tra cui Casoli dopo l'invasione del Regno di Jugoslavia nella primavera del 1941 da parte della monarchia e del regime fascista italiano. Con il suo libro Non era una donna, era un bandito, Rita Rosani, una ragazza in guerra, ha contribuito a far conoscere al grande pubblico le dolorose vicende accorse a Casoli durante la Seconda Guerra Mondiale agli internati e deportati ebrei e ha saputo, dopo essere venuto in possesso di alcune corrispondenze epistolari del 1941-43 ed avvalendosi di interviste e testimoni dell'epoca, raccontare con maestria la Casoli di allora ed il comportamento della comunità casolana in quel drammatico periodo storico, manifestando una profonda empatia verso chi all'epoca venne travolto da vicende di particolare tragicità. Ebbene, questa è la motivazione, è doveroso, è interesse di tutti e grazie per questa opportunità di conoscere meglio ciò che Livio ci ha regalato. Grazie all'assessore alla cultura Liberata Colanti Protagonista del libro di Livio Sirovic è la corrispondenza tra Giacomo, familiarmente detto Cubi, Nagler e Rita Rosani, due fidanzati triestini di religione ebraica che si ritrovarono separati perché Cubi fu internato prima nel campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia in provincia di Cosenza, in Calabria, poi a Casoli e in ultimo, prima della sua deportazione insieme ai suoi genitori ad Auschwitz, a Castelfrentano. Sullo sfondo di questa loro corrispondenza scorrono le vicende storiche dell'Italia. L'autore ci rende partecipi dell'inaspirsi dei sentimenti antisemiti, dei disagi quotidiani legati alla guerra e dell'evolversi del conflitto nello scacchiere internazionale con un particolare sguardo su Trieste che, tra tutte le città d'Italia, ha una storia e un tessuto sociale molto complessi. Le famiglie Nagler e Rosani saranno distrutte, i Nagler in un campo di concentramento, mentre Rita Rosani, che diventerà partigiana, morirà in combattimento armi in pugno sul Monte Comune, nel Veronese. Rita sarà l'unica donna partigiana italiana ad essere decorata di medaglia d'oro e a lei sarà intitolata la strada della Sinagoga di Verona. Il lato disarmante e spietato di questo libro è che fa capire come si attuò esattamente la persecuzione italiana di cittadini ebrei. Con l'emanazione delle leggi razziali, il loro destino fu irrimediabilmente segnato. In un crescendo, assistiamo alle discriminazioni, alle vessazioni, alle spoliazioni, poi con l'avvento della guerra all'imprigionamento, alla cancellazione dell'identità e, per molti di loro, alla soluzione finale. Questo libro di Sirovic per Casoli ha avuto la funzione di una pietra d'inciampo, ha creato una grande partecipazione emotiva. L'arrivo da Trieste della foto di gruppo degli internati sulle scale, che tutti conosciamo ormai, o vedere i cubi con i carabinieri alla villetta di San Francesco, il vederli a casa nostra e sapere dove sono andati a finire, è stato sconvolgente e ci fa anche sentire in colpa. Prima di passare la parola ai relatori, vorrei segnalarvi che su iniziativa del liceo scientifico Galileo Galilei di Lanciano, lo scorso 7 gennaio, sono state messe in opera dall'artista tedesco Gunther Demnig, le pietre d'inciampo per le famiglie Nagler e Fürst a Castelfrentano, che fu il luogo del loro ultimo domicilio. Cominciamo quindi con l'analisi di questo libro, entriamo nella presentazione e iniziamo con Giuseppe Laurentini, storico, ideatore e responsabile curatore del centro di documentazione online del campo di concentramento fascista di Casoli 1940-1944 e autore del volume Lozio Coatto. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, allora io oggi, questa sera mi limiterò semplicemente a fare qualche domanda a Livio perché ci saranno ben due relazioni molto più approfondite sui contenuti sia letterari che storici del libro. Intanto colgo l'occasione, l'ho fatto a Trieste, a casa sua e ora la faccio nella sua seconda casa, l'occasione per ringraziarlo perché grazie a questo libro che io ho potuto procedere anche nella mia ricerca storica e storiografica perché bisogna dirlo che anche se questi documenti conservati nell'archivio storico e come di caso erano stati già studiati da altre persone, però con il libro di Livio Sirovic questi documenti raggiungono il grande pubblico e quindi ha permesso in qualche modo di far conoscere questa storia, una storia abbastanza drammatica, poi andremo a vedere le vicende che si intrecceranno tra i vari protagonisti, ha fatto conoscere alla maggior parte delle persone, quindi non soltanto a chi si occupava e si occupa di storia, la storia degli internati e quindi dell'internamento civile fascista. Allora io appunto mi fermo già qui, farei una domanda, una domanda che dal punto di vista storico per me è molto interessante, volevo sapere da Livio come, ci sono due domande, la prima domanda come si è arrivato a questa documentazione, diciamo questa corrispondenza tra gli internati, ossia tra Rita Rosani e Giacomo Nagler, quindi vorrei sapere come si è arrivato ad avere questo patrimonio importantissimo dal punto di vista non soltanto umano ma anche storografico. E un'altra domanda, volevo sapere come sono stati trattati questi documenti, qual è stato il metodo utilizzato per poter ricostruire le vicende di questi internati e soprattutto della storia poi che si è intrecciata tra la corrispondenza di Rita Rosani con Giacomo Nagler. Quindi queste sono le mie uniche due domande, quindi io lascerei poi la parola agli altri relatori per approfondire in maniera dettagliata e minuciosa sia i contenuti letterari, come ho già detto, che quelli storici. Grazie comunque. Grazie anche per l'onore che mi è stato fatto di questa cittadinanza che mi ha commosso e continua a significare molto per me, perché una comunità che ti riconosce per un lavoro che hai fatto è veramente una cosa eccezionale. Dunque Giuseppe mi chiede come mi sono imbattuto in questa storia. E' la storia che ha trovato me, non io che ho trovato la storia, perché avevo scritto anni prima questo libro di cui ci sono due coppie lì in vendita fuori, che è uscito per Mondadori ed era la storia della famiglia di mia madre. Io sono figlio di un'ebrea tedesca che viveva però in Lituania, nei paesi baltici. Tutta la famiglia di mia madre è stata sterminata tra l'estate e l'autunno del 1941 dai tedeschi e anche con l'appoggio dei lituani, di alcuni lituani nazionisti, quando la Germania ha attaccato l'Unione Sovietica con l'operazione cosiddetta Barbarossa. Mia madre era scappata già prima, nel 1935, a 19 anni. Questo libro racconta appunto la storia della sua famiglia sulla base delle lettere che lei si scambiava con i suoi parenti in Lituania tra il 1935 e il 1941. Un giorno mi telefona a Trieste un tizio che io non conoscevo, mi telefona da Napoli e mi dice mi chiamo Gianfranco Moscati, ho letto il suo libro uscito da Mondadori, mi è capitato tra le mani una corrispondenza piuttosto corposa a parecchie centinaia di lettere scritte da una ragazza triestina al suo fidanzato, prima in Calabria e poi a Casoli in Abruzzo. Le interessa leggerle? Io ho detto sì, si figuri, perché c'è dentro una storia, dice lui. Per farvela breve, mi ha spedito con un corriere tutte le lettere fotocopiate con grande cura fronte e retro delle buste e poi tutte le pagine scritte, ne vedremo alcune poi riprodotte. Ho letto questa corrispondenza, ho capito che c'era una storia, siccome queste lettere erano state messe in vendita dalla Casa d'Aste Bolafi di Torino da un anonimo, ve la faccio accorta, un anonimo che le aveva sottratte a Palazzo Cavaccini a Castelfrentano, anonimo che è rimasto e resterà anonimo comunque. Io con molta fatica ho rintracciato questo anonimo, il quale, capito che il mio intento non era da collezionista ma era da persona che voleva raccontare una storia, mi ha regalato le altre lettere che lui aveva tenuto per sé e che non erano state messe in vendita da Bolafi. Quindi la seconda, la prima fonte delle lettere è il collezionista Gianfranco, ho capito poi che era un grande, forse il maggiore collezionista numismatico italiano, soprattutto di corrispondenza da e per campi di concentramento, Gianfranco Moscati, personaggio eccezionale. La prima fonte è lui che mi ha mandato le fotocopie, la seconda è Mr. X che mi ha regalato una cinquantina tra cartoline, lettere eccetera e poi ho fatto degli annunci pubblicitari su riviste filateliche italiane per chiedere chi avesse acquistato perché c'era stato un altro lotto di corrispondenza che era già andato disperso. Attraverso questo annuncio su riviste di corrispondenza di filatelia ho acquisito un altro paio di decine di lettere che mancavano e infine ho messo degli annunci sui giornali delle comunità ebraiche per chiedere se c'era qualcuno che avesse notizie degli internati a Casoli in Abruzzo ed è saltata fuori una Rosetta Weintraub che poi è diventata mia grande amica, la quale aveva sette anni nel 1943 e si è trovata a Castelfrentano perché i suoi genitori avevano voluto andare incontro agli alleati angloamericani allontanandosi da Trieste che era ormai caduta sotto il dominio tedesco e per andare verso gli alleati aveva deciso di raggiungere una famiglia di carissimi amici che erano proprio i Nagler, di cui vedete la storia su uno dei poster della mostra. Quindi lei si è trovata a Castelfrentano, la bambina. La bambina ricorda perfettamente che il 3 novembre del 1943 la famiglia Nagler era stata catturata dai tedeschi, era stata chiusa nella scuola di Castelfrentano e mamma e papà discutevano tra loro che bisognava andare a portargli qualcosa da mangiare e chi poteva andare. Discussero tra loro e conclusero che era pericoloso che papà andasse perché gli uomini venivano rastrellati, potevano finire in Germania, non si sa, quindi la mamma decise ci vado io. Andò alla scuola per portare della frutta e qualcosa da mangiare e la bambina ricorda perfettamente che la mamma la sera aveva i capelli neri e la mattina aveva tutti i capelli striati di bianco. Da un punto di vista medico ho accertato che questa cosa è possibile, io non ci volevo credere, ma invece pare accertato che uno stress tremendo può incanutire non tutti i capelli ma alcune strisce e così avvenne per la mamma di Rosetta Weintraub e questa è l'origine. Poi l'ultima fonte è stata che sono riuscito a convincere l'assessore alla cultura del comune di Castelfrentano dell'epoca a consentirmi di perquisire Palazzo Cavaccini a Castelfrentano che era già pericolante e lì ho trovato nelle circostanze che sono descritte nel libro gli ultimi effetti personali di Giacomo Nagler da tutti detto Kubi. Devo dire quando all'ultimo piano in mezzo alla polvere dei calcinaci e alle feci dei topi ho trovato una piccola valigetta di cartone sfasciata con dentro le pubblicità del loro negozio di Trieste, le buste del negozio che lui usava per corrispondere con la sua fidanzata a Trieste mi sono veramente commosso e tra l'altro anche le scarpe che vedrete fotografate, che lui aveva delle scarpe eleganti alla moda dell'epoca, bianche con finiture di pelle marrone che lui aveva scritto di volere re-indossare a Trieste quando fosse stato libero avesse potuto sposare Rita e quindi qui a Casoli aveva portato le scarpe da un calzolaio e si era fatto applicare degli grossi spessori di cuoio di almeno 4 mm sotto i tacchi e anche sotto le piante in modo da non consumare tacchi e suole originali della scarpa, quindi lui camminava sui tacchetti sostanzialmente per non rovinarle e ho trovato queste scarpe a palazzo Cavacini, amo fitte e commovente. Grazie Livio, ascoltiamo un brano dal libro Non era una donna, era un bandito. Livio, parlavamo e c'è una grande storia dietro Livio, dialogando, c'è una storia di cenciari e cenciarie, perché giravano i grandi rigattieri, c'è stato un momento in cui la memoria è stata rimossa anche nelle sue merci, nelle sue icone e poi volevo dirti in ossequio la bontà dei vini friulani, friuli Venezia Giulia, che un bicchier di vino, un gotin, da noi è una sfera e quindi anche il dionisiaco diciamo è un bicchier di vino, una sfera, perché è come la sfera che legge nel futuro. Luglio 1940, un attimo, luglio 1940, Giacomo Nagler viene spedito in Calabria, a Trieste, Cubi venne messo in cella una settimana dopo il padre, il 30 giugno, e rimase in quello schivo quasi un mese. Come si legge nel registro del carcere, il 27 luglio venne consegnato agli agenti DPS per destinazione non indicata negli atti. La conosce solo durante il viaggio, Calabria, un posto dal nome curioso, Ferramonti, vicino una stazione ferroviaria mai sentita nominare prima, prigionieri e scorta scendono a Tarsia il 29 luglio 1940, una stazioncina misera ma con i suoi bravi fasci, i toni. Gli ebrei chiedono quale sia la meta, sacramentando, il caposcorto avverte che si andrà al campo a piedi, addirittura un campo. Quale campo? vengono fatti venire degli asini per i bagagli. La marcia dura quasi due ore. Ad un certo punto, in un tratto più ampio di una valle, incontrano un fossato largo un metro e mezzo e un cartello con la scritta limite del confine. Limite del confine. Attorno a nulla, non un albero, non un arbusto, un calore insopportabile, umido e appiccicaticcio. Sono arrivati al campo di concentramento di Ferramonti, questa è la destinazione ufficiale, denominazione ufficiale coniata dal Ministero dell'Interno. Il campo si trova a 5 km dall'abitato di Tarsia, in una zona depressa della valle del fiume Crati, 40 km a nord di Cosenza, una regione infestata da una forma non mortale di malaria che tuttavia costituirà un brutto tormento per i prigionieri buttate sulle brande senza medicine adeguate. Il Nale. Sulla località la Direzione Generale della Sanità aveva espresso parere negativo, ma il Ministero Mussolini l'aveva scelta ugualmente per favorire gli interessi del costruttore Parrini, che in quel caso desiderava riciclare sul posto certe sue vecchie baracche, lavori e che aveva ottenuto anche gli appalti di altri campi. Quando i primi internati giunsero a Ferramonti Tarsia, trovarono un cantiere, scrive Voigt. All'epoca nella piana dei Crati c'erano solo il fossato, i cartelli e qualche baracca in un quadrato di terreno di 16 ettari. Dentro le baracche, tavolacci di legno e paglierici, le garritte vennero raggiunte solo dopo il successivo trasferimento di Cubi a Casoli, in Abruzzo. Luglio 1940, il padre, Salo Nagler, viene invece mandato a Casoli. In Abruzzo, in Abruzzo, la voce dell'arrivo degli ebrei dalla lontana Trieste si rasparsa già da alcuni giorni. Oh, da Trento e Trieste! Quel pomeriggio, mentre la colonna di prigionieri a piedi con la scorta dei carabinieri, il seguito di carretti per i bagagli e saliva a passo lento i tornanti polverosi della strada del Sangro, ogni rupe del presepe aveva il suo ciuffo di ragazzini e ogni finestra due o tre curiosi, impazienti di vedere chi arrivasse dalle città, per cui erano morti i casolani ricordati sul monumento in piazza. Quando la colonna entrò in paese, i ragazzini divennero un codazzo allegro e vociante. Ci lasciarono a bocca aperta, soprattutto le scarpe, racconta oggi uno di quei ragazzi. quelle portate dagli ebrei erano completamente diverse da quelle di noi cristiani, lucide sotto la polvere, metà bianche, metà marroni, con i disegni. Sembrava strano che potesse starci dentro un piede da adulto. Gli ebrei dovevano avere i piedi più stretti dei nostri, probabilmente. Non si erano mai viste scarpe così a caso lì. Grazie a Xboria per la lettura. Andiamo avanti, passo la parola a Piera Della Morgia, Presidente della sezione Ampi di Casoli, intitolata a Nicola Caniglia. Grazie. Vabbè, vediamo un po'. Allora mi tocca. Io invece, come ti ho chiesto anche ieri sera, sono molto curiosa di capire com'era la Trieste di quel periodo, cioè tra le due guerre. Io l'ho sempre immaginata come una città estremamente colta, evoluta, ricca, brillante. Lo sbocco al mare di un grande impero, crocevia di vari popoli, di varie lingue, di varie nazionalità. Tra l'altro penso che il nome Trieste, per noi bambini del dopoguerra, uno dei nomi delle prime città che abbiamo appreso. Si cantavano le canzoncine, quelle ancora. Si parlava di prima guerra mondiale Trento e Trieste. Trieste, Trieste liberata, Trieste da liberare. Trento e Trieste per me erano vicine come Casoli e Lanciano, come Chieti e Pescara. Non sapevo bene come fossero sistemate. Però sembra avuto l'idea anche di una città elegante. Com'è che di colpo, in poco tempo, si passa da questa immagine che forse è errata, al fatto di avere, di esprimere tanti fascisti. Cioè un cambio così repentino che mette in tale difficoltà tutti gli stranieri, tutti gli ebrei, quelli che diventeranno apolidi perché gli viene sottratta la cittadinanza italiana o magari non l'avevano. Sembra una reazione smisurata, troppo forte, troppo ampia, per una città che io immaginavo così. Inoltre la tranquillità di questi ebrei che anche quando certi cambiamenti cominciavano a farsi sentire, loro restavano convinti di vivere nella loro patria, a casa loro. È così. Sì, dunque ho messo questa immagine per farvi vedere che questa riassume un po' gli spostamenti della storia Trieste. Qui la famiglia di Rita proveniva dalla Moravia, questa zona al confine tra la Cecchia e la Slovacchia, a nord dell'Austria. Invece la famiglia del fidanzato di Rita proveniva dalla Galizia, che oggi è ucraina, qui all'epoca era Polonia, la Galizia polacca. Trieste, quando viene, a seconda dei punti di vista, viene liberata o viene conquistata dall'Italia, era una città emporiale in grande sviluppo perché era l'unico porto importante insieme a fiume dell'Austria-Ungheria, ma la svolta del novembre 1918 porta a grandissimi cambiamenti in città. Il governo Sabaudo immediatamente abolisce e chiude le scuole in tedesco e le scuole private in ungherese e soprattutto quelle tedesche. Questo causa l'immigrazione di molte migliaia di funzionari e impiegati austriaci e di altri paesi che non potevano più vivere in Italia, a Trieste, perché avrebbero dovuto rinunciare a mandare i propri figli alle scuole di lingua tedesca. Vengono anche emarginati e mandati via parecchi sloveni e croati. Poi c'era stata l'influenza spagnola, la città aveva perso alcune migliaia di abitanti perché morti a causa di questa epidemia. Il governo Sabaudo favorisce l'immigrazione di alcune decine di migliaia di italiani, soprattutto dalla Puglia e da altre zone del meridione. Le persone a cui viene concesso di immigrare a Trieste vengono selezionate anche da un punto di vista politico-patriottico perché si vuole favorire l'italianizzazione della città. La città è molto mista perché è da sei secoli sotto il dominio degli Asburgo. All'epoca era una città multilingue, multietnica e l'irredentismo, cioè i patrioti italiani che desideravano che Trieste si congiungesse con il regno di Saloia non erano numerosissimi, nonostante la versione dei fatti che si è poi affermata in Italia, erano una minoranza di intellettuali etc. Quindi questo forte cambiamento di popolazione incentiva vari commercianti e imprenditori ebrei del centro Europa a venire a Trieste perché Trieste nel loro immaginario era una città in grande sviluppo economico e dalla quale molti imprenditori eccetera come ho detto poc'anzi andavano via e quindi c'erano opportunità di inserirsi. La famiglia di Rita Rosani, la maestra 23enne triestina ebrea, veniva come ripeto dalla Moravia ed lavoravano in una grande azienda di spedizioni che aveva la sede centrale a Budapest ed era gestita da parenti. Rosenzweig era il nome originario della famiglia che poi è stato italianizzato in Rosani nel 1928. Però quando i Rosenzweig arrivano a Trieste trovano già una città trasformata. Loro arrivano nel giugno del 1920 e il 13 luglio del 1920 e le prime squadre fasciste e nazionaliste di Trieste danno alle fiamme un grande edificio nel centro della città che si trovava a 80 metri linea d'aria da casa loro. La mamma di Rita nasce in novembre, siamo in luglio, era il sesto mese di gravidanza e si spaventò molto perché a 80 metri da casa sua venne dato alle fiamme un enorme edificio moderno, modernissimo che conteneva un teatro, associazioni sportive, banche, un albergo, studi professionali ed era il centro culturale della comunità slovena, croata e cieca di Trieste. Ma i nazionalisti, fascisti e nazionalisti italiani danno le fiamme a questo edificio che nella loro visione della città costituiva un insulto straniero perché la città doveva essere solamente italiana. I Rosenzweig sono molto meravigliati e spaventati da questo fenomeno. Considerate che nel 1921 Trieste da sola forniva il 18% degli iscritti al partito fascista italiano in tutta Italia. Trieste aveva 220 mila abitanti e con questi 220 mila abitanti forniva il 18% degli iscritti di tutto il partito fascista italiano. Avevamo a Trieste molti più iscritti che a Milano dove il fascismo era stato fondato il 19 marzo del 1919 in piazza San Sepolcro. Quindi la città si è cambiata molto perché la violenza della guerra ha inaccidito ovviamente molti animi. Alcuni soldati arditi del popolo sono stati premiati con qualche proprietà in zona e poi c'è stata l'immigrazione. Spero di aver risposto. Allora, quindi facciamo parlare il professor Gianni Orecchioni, insegnante storico. Nel suo libro I sassi e le ombre, storie di internamento e di confino nell'Italia fascista che è stato edito nel 2006. Lui dedica un capitolo piuttosto ampio alla vicenda dei Nagler e quindi l'aveva già ricostruita in modo anche dettagliato. Prego professore. Sì, allora grazie per questa partecipazione e soprattutto sono contento di stare qui a presentare questo bellissimo libro di Dio Sirovic, un libro che appassiona molto nella lettura, cattura. Se un libro in qualche modo cattura il lettore vuol dire che funziona, funziona molto bene. Per me questa emozione nella lettura era doppia perché riguardava appunto una storia che già conoscevo, la storia della famiglia Nagler, ma anche la storia dei Grauer e di altre persone che qui erano state arrestate e poi portate alla morte ad Auschwitz. Quindi scoprire invece di queste lettere, sapevo che c'era la fidanzata triestina, invece questo mare di documenti che sono uscite fuori, chiaramente per me è un interesse storico notevolissimo. Anche perché la mia idea di lavoro storico è stata sempre quella di mettere al centro la persona, le persone, raccontare le storie perché la vera storia è quella che riunisce il dato, l'archivio con la vita concreta delle persone. Come dire che il vero racconto è quello che alla fine è un misto di documento storico, di storia, ma anche di arte, perché attraverso la letteratura o altre forme di arte si respira meglio il senso delle cose, cioè c'è il vissuto, le emozioni che fanno parte della storia, della storia vera, della storia delle persone coinvolte in tutto ciò. Il libro è molto bello perché da un lato racconta una storia privata, si diceva questa corrispondenza tra due fidanzati molto diversi tra loro, tra l'altro un po' per l'età, un po' per cultura, ancora di più poi per le situazioni diverse che si trovavano a vivere. Però questa storia privata si intreccia con la storia, Tukur, adesso un breve flash è stato fatto sulla situazione di Trieste, città veramente colpita dal furore nazionalista e razzista che si è scatenato in Italia e che dovrebbe essere un po' al centro di una riflessione anche più importante, diciamo che tutta la parte relativa al confine nord-orientale dell'Italia è poco conosciuta e spesso è fonte soprattutto di rotture delle visioni del mondo e sappiamo quello che si dice a proposito delle foibe, a proposito di quello che si dice dei pitini, ma si ricostruisce molto poco, si sa molto poco della violenza nazionalista che è stata presente in quei luoghi, poi non dimentichiamo anche la questione del razzismo nei confronti degli ebrei perché non soltanto ce lo documenta molto bene questo libro, ma insomma la prima forma di arresto di massa degli ebrei avviene proprio a Trieste, prima che è a Roma, si parla sempre di Roma, il ricordo degli ebrei a Roma, la prima città in Italia è Trieste, quindi Trieste ha un ruolo di primissimo piano per ricostruire la storia del fascismo, la storia del nazionalismo, la storia dell'antisemitismo fascista e quindi il libro è molto interessante e poi il terzo elemento di interesse è quello che è stato già raccontato, cioè il giallo, il giallo delle fonti, come piano piano che escono fuori questi documenti in una maniera veramente da giallo, è così, ma insomma questo mix di elementi fa sì che il libro rispiri un senso profondo di valori di interesse per chi legge, c'è molta durezza nel libro nel raccontare la storia triestina, ma se noi leggiamo altri scrittori della zona, scrittori sloveni, ritroviamo queste cose, Boris Paor quando scrive ancora adesso continua a urlare la violenza che c'è stata nei confronti delle minoranze da parte dei fascisti, oggi sembra che Paor sia una minoranza, è anziano eccetera, ma lui rivendica con forza questo elemento della storia che va tenuto presente, io ho anche diversi amici sloveni, storici, con i quali è difficile discutere di queste cose perché c'è un rancore, un rancore profondo perché la storia mistifica, il racconto storico mistifica e anche adesso dobbiamo cercare di evitare di dire che nel libro si parla della violenza antisemita e basta perché nel libro Livio Sirovic dice guardate che la violenza che stavano facendo all'inizio nei confronti degli sloveni era peggiore rispetto a quella che facevano nei confronti degli ebrei, quindi lui ci dà un affresco molto veritiero, ampio che racconta la verità, per cui nel libro c'è tanta tanta storia e questo insomma gli va atto perché abbiamo bisogno di questi racconti che mettono insieme da un lato le storie delle persone ma dall'altro lato la storia vera che ha riguardato intere comunità, minoranze linguistiche e culturali. Il libro termina in una maniera anche molto amara parlando delle macerie interiori, le macerie umane che restano, le macerie delle case a un certo momento si possono in qualche modo superare con la ricostruzione dopo guerra, ma le macerie umane no, queste macerie hanno tanti volti perché sono da un lato le vite strappate delle persone, dall'altro lato gli affetti più cari che vengono meno, ma dall'altro non dimentichiamo, se ne parlava proprio un attimo poco fa, scompaiono intere comunità, il plurilinguismo, le diverse religioni, camminando a Trieste ci si accorge che stanno a chiese di tutti i tipi, non c'è più, Trieste è una città più povera, ma non parlo a un punto di vista economico, proprio di valori culturali, quel mix di cultura, c'è quel passaggio simbolico molto drammatico della sorte della statua di Italo Svevo, Italo Svevo che rappresenta l'unione di culture diverse, è proprio il simbolo da distruggere perché non ci deve essere nessuna commistione tra culture diverse, questo racconta il libro. In quadro ampio di questa violenza nazionalista è molto interessante come focus su Trieste, ma poi come vedete già dalla cartina Livio Sirovic dice che questa violenza non è che stava solo a Trieste, c'erano famiglie che fuggivano e arrivavano in Italia, a Trieste, anche in altri posti per cercare di trovare la salvezza dalle persecuzioni. C'è un libro che anche Livio Sirovic cita più volte, che è quello di Klaus Foynt, che ha raccontato in due volumi editi in tempi diversi per la nuova Italia, il rifugio precario, la storia di tantissimi ebrei che dall'Europa fuggono e arrivano in Italia, a volte per restarci, a volte come trampolino per andare in altre parti, negli Stati Uniti, in Argentina, in altre parti del mondo. Questa storia è anche un po' una risposta a Piera, perché venivano qui, venivano perché da un lato erano disperati, da un lato Trieste aveva una capacità attrattiva, c'era già una comunità ebraica importante, quindi era più facile potersi inserire anche dal punto di vista del lavoro, ma in realtà c'è un vero e proprio esodo dall'Europa degli ebrei perseguitati e l'Italia diventa per un periodo un territorio in cui questo rifugio si poteva trovare, perché non ancora venivano fuori le leggi razziste del 1938. Le leggi razziste del 1938, come sapete, abbiamo anche un po' raccontato nella mostra, riguardavano in particolare gli ebrei italiani, viceversa con l'entrata in guerra dell'Italia. La deportazione nei campi riguardavano gli ebrei stranieri, quindi c'è un andamento legislativo dei provvedimenti di carattere militare, se volete, legati alla sicurezza, che non sono lineari, che hanno una logica precisa che molto spesso è difficile raccontare a chi non è dentro questo tipo di studi e questo tipo di ricerche, per cui se si era ebrei stranieri si finiva in un campo di concentramento, se non si era ebrei stranieri si avevano tante altre limitazioni, che adesso non stiamo a raccontare, abbiamo un po' raccontato qualcosa nella mostra, perché per quanto la mostra possa essere ampia e diciamo che c'è veramente tanta, tanta storia da raccontare. La cosa interessante è che c'è un collegamento tra questa storia di Trieste, degli ebrei in fuga e l'Abruzzo, perché in Abruzzo abbiamo raccontato, abbiamo avuto il maggior numero di campi di concentramento, il maggior numero di luoghi di internamento e riservati e confinati politici. Quindi noi qui abbiamo detenito gli ebrei che venivano arrestati come ebrei stranieri da Trieste. Abbiamo avuto, e parlo perché c'è una sorta di gemellaggio in realtà tra Casoli e Lanciano, prima gli ebrei, due vite nel campo, a Casoli maschile a Lanciano femminile, ma prima gli ebrei stranieri, poi i prigionieri che arrivavano dall'ex Jugoslavia. Quindi le minoranze da un lato, gli oppositori politici dall'altro, insomma tutto questo universo che un po' il libro ci ha raccontato, è arrivato qui sotto forma di detenzione nei campi. Per cui questo libro parla molto anche del nostro territorio, il nostro territorio in gran parte è inconsapevole, perché si vedono arrivare delle persone senza una memoria, una consapevolezza di chi fossero, perché venivano, quali erano i reati che avessero commesso eventualmente, perché l'idea è che se uno è detenuto ha commesso dei reati, non perché magari nasce preo o nasce di una minoranza linguistica e gli viene imposto di cambiare il nome, di non frequentare la sua scuola, viene distrutta una letteratura, case della cultura slovena, quindi nel libro c'è tanta violenza che faceva però da controcanto a una storia d'amore anche banale, tra una persona adulta e una che allora era proprio una ragazzina un po' viziata, che poi diventerà un'eroina della resistenza, ma insomma anche un po' un percorso di formazione per Rita Rosani che ci porta a questa situazione. Io mi sono occupato di queste storie da tanto tempo, per cui mi sono sentito molto coinvolto in questo tipo di racconto, tra l'altro prima di iniziare avevamo trovato nel libro anche una corrispondenza che aveva Giacomo Cubi con Grunut, ieri avevamo qui la nipote di Grunut che era venuta da Milano, di Siree, ho detto magari facciamo un omaggio, facciamore avere anche questo tipo di piccolo documento, una cartolina, però insomma per dire che mettendo insieme le storie si riannudano i fili della memoria e questo libro ci aiuta a farlo anche attraverso le emozioni che ci trasmette. La cosa amara del finale è che i responsabili delle peggiori nefandezze del fascismo alla fine ritornano ai loro posti, anche importanti, anche dell'accademia e invece chi è stato perseguitato ritorna umilmente a ricoprire dei posti di retrovia senza alcun riconoscimento. Tra l'altro vi dico una cosa, in Italia poi ci sarà un provvedimento per riconoscere agli ebrei perseguitati un piccolo assegno mensile come risarcimento dei danni, ad altre categorie che saranno invece maltrattate tantissimo nella storia, nulla e voglio spezzare qua una lancia che non lo si fa, abbiamo parlato un po' di sloveni, abbiamo parlato un po' di ebrei, pensate a tutto l'universo Rom che ha vissuto la deportazione, non ha avuto le leggi razziali perché era già considerato da prima, fin dal 26, un popolo che doveva essere perseguitato. Quindi c'è una legislazione diversa, bisognerebbe metterlo, l'abbiamo appena accennato nella mostra, ma ci sono delle comunità che sono state fortemente penalizzate, perseguitate dal fascismo, poi si sono ritrovate nei nostri campi abruzzesi, perché anche nei campi abruzzesi abbiamo campi riservati, quelli che loro chiamavano gli zingari. Questo libro si lega molto alla storia che abbiamo raccontato nella nostra mostra, addirittura perfino le persone si ritrovano in questa storia, si ritrova il mio libro che ho scritto nel 2006, quindi grazie Livio, so che adesso ci farei un bel racconto di questa storia tra i due fidanzati. Grazie infinite. Facciamo una veloce cavalcata attraverso la storia raccontata nel libro, avvalendoci delle immagini. Ricchione ha parlato delle macerie che restano alla fine della guerra, macerie anche o forse soprattutto interiori, intime, macerie sentimentali. Cominciamo quindi questa storia dalla fine. Rita è già morta, Rita muore il 17 settembre 1944, viene ferita gravemente in combattimento e viene finita con un colpo di pistola all'occhio sinistro da un giovanissimo ufficiale della Repubblica Sociale Italiana, che si chiamava Mario Scaroni. Il titolo del libro, Non era una donna, era un bandito, è messo tra virgolette sulla copertina perché è una frase che viene riportata nel 1946 durante il processo all'assassino di Rita. Il prete di Alcenago, il villaggio del Fondovalle, che è venuto a benedire le salme dei morti in combattimento, ha sentito che uno dei militi fascisti chiede al suo tenente, Scaroni appunto, e gli dice, signor tenente, parlando in dialetto veneto, come farà adesso che ha ucciso una donna? Perché anche al milite fascista sembra una cosa grave avere ucciso una donna? E il giovanissimo, da pochi giorni 19enne, pensate che tragedia è stata la seconda guerra mondiale, qui non si tratta di condannare lo Scaroni per quello che ha fatto, aveva poco più di 18 anni, sono pochi giorni più... Scaroni risponde, non era una donna, era un bandito, da cui il titolo, perché l'ordine che avevano le truppe, sia tedesche che italiane collaborazioniste, era che in qualche modo anche in accordo con gli accordi di Ginevra, bisogna dire, dell'epoca, i civili sorpresi a usare le armi contro un esercito regolare, potevano venire passati per le armi seduta stante e quindi Rita ferita viene finita con un colpo di pistola. Nel 1946, nell'anniversario del compleanno di Rita, era nata il 20 novembre del 1920, la mamma di Rita manda una fotografia della figlia, Rita Rosani, che vedete qui ripresa, a una delle sue migliori amiche che si chiamava Nora Bauer, qui ci sono anche dei collegamenti personali, mia madre purtroppo è morta prima che io mi interessassi a questa storia, ma alcune delle migliori amiche di Rita erano anche migliori amiche di mia madre, io non so se mia madre conoscesse Rita, non ho nessun indizio, però avevano almeno tre buone amiche in comune. Parentesi nella parentesi, vi ho detto che mia madre era ebrea, mio padre era cattolico, io sono stato allevato da cattolico e non ho ricevuto nessuna cultura ebraica e per dire la verità non mi ritengo ebreo. Questo per chiudere la parentesi, il mio coinvolgimento c'è nel libro e ovviamente per varie ragioni, anche perché mia madre era tangente a questa storia a Trieste. Leggiamo insieme per capire la sofferenza atroce, Rita era figlia unica, entrambi i genitori sono morti nei primi anni 50 poi, la madre di Crepacuore e il padre qualcosa del genere probabilmente. La mamma di Rita regala questa foto a Nora Bauer e le scrive, per ricordo della nostra indimenticabile unica figlia Rita caduta in combattimento il 17 settembre 1944 sul monte comune presso Verona alla sua amica cara Nora Bauer e firma così i desolati genitori Rosa, nome della mamma, e Rita Rosani. Un lapsus, invece di firmare a nome della mamma e del papà, lei ha talmente in testa il nome della figlia che firma Rosa e Rita Rosani, Trieste 20 novembre 1946. Qui vediamo Rita per la festa del cosiddetto carnevale ebraico che si chiama Purim, è una festa in cui gli ebrei si usano travestirsi e festeggiare ma ricordano una salvezza portentosa avvenuta in Babilonia durante l'esilio, è una specie di carnevale ma non è carnevale, si chiama Purim e qui a Rita circa nel 1930, quindi circa dieci anni d'età, si è vestita da olandesina. La famiglia era benestante, era media borghesia e vi ho mostrato questa immagine perché poi ritornerà. Qui vedete la foto di classe al liceo Carducci di Trieste dove insegnava Eugenio Colorni che era il responsabile del centro interno del partito socialista in Italia, cioè il principale leader socialista italiano insegnava in questo liceo ma non risulta aver avuto contatti con Rita, non era comunque uno dei suoi insegnanti, ma c'è qualcosa in Rita che poi farà la partigiana che ci suggerisce che non amava il regime fascista, non era una famiglia politicizzata la sua, assolutamente, erano medio borghesi, credo apolitici, questo risulta anche da altre fonti, da altre corrispondenze, però vedete che nel 1937, questa è la foto di classe, sono circa 35 ragazze, sono tutte investito in divisa da giovani italiani, quella patacca chiara che tutte le ragazze hanno sulla cravata e il testone di Mussolini, sul petto hanno le insegne dell'opera nazionale Balilla e anche le mostrine sul colletto della camicia, ma vedete che Rita, segnata da quella freccia viola, Rita è questa, freccia viola, non è in divisa, si è messa una gomma nera, è una camicia bianca per camuffarsi un poco nel gruppo, ce n'è un'altra lassù, eccola qui, quindi due ragazze, forse ce ne potrebbe essere qualcun'altra dietro, non vediamo, ma sono tutte in divisa, meno due, una e due. Tra le alunne di questa classe c'era anche la nipote Nicolò Gianni, che vedremo nelle immagini successive, che era un teorico del antisemitismo italiano e aveva fondato a Milano l'istituto di mistica fascista, ci ritorneremo. Quindi non era una famiglia politica, assolutamente politizzata, non era una famiglia di sinistra, però il culto della libertà forse ce l'avevano. Parentesi, suo padre era direttore generale della ditta di spedizioni Hoffman, come detto ungherese, il presidente di questa stessa ditta di spedizione era l'avvocato Forti, ebreo, il quale era stato, come diceva il regime, discriminato, discriminato, cioè perdonato dalle discriminazioni contro gli ebrei. E quindi suo figlio aveva potuto frequentare l'università, era stato perdonato dal regime fascista per i suoi meriti patriottici. Ebbene, anche questa era una famiglia non politicizzata, certamente non di sinistra, però il figlio è medaglia d'oro della resistenza, anche lui, in Umbria, perché lavorava come ingegnere navale a Livorno, perdona, alla Spezia, e poi si è nascosto in Umbria, fatto il partigiano. E' stato torturato a morte perché non voleva rivelare il nascondiglio dei suoi compagni. I giornali alleati dell'epoca lo celebrano come uno dei più fulgidi esempi di eroismo della Seconda Guerra Mondiale, a Norce, in piazza, a un monumento dedicato. Ed era il figlio del presidente della ditta di spedizioni di Trieste e la figlia del direttore generale e anche lei in medaglia d'oro. Quindi c'era qualcosa in questo gruppo di persone, di amici che si opponeva al fascismo, ma non conosciamo i dettagli. E con un ingrandimento rita chiaramente e si è messa anche una spilla, si è messa un cammeo o qualcosa per simulare, perché questo è Mussolini e questo invece non c'entra niente, è una spilla così, qualsiasi. All'epoca la scuola cercava di instillare un orgoglio fascista negli allievi per trasformarli, queste sono foto d'epoca, in soldati. Mussolini aveva questa idea che l'Italia doveva ritornare grande nel mondo e conquistare un impero, voleva ripristinare l'impero romano. E il re d'Italia era ben felice di avere la prospettiva di diventare imperatore, come sappiamo poi nel 36 si è proclamato imperatore quando abbiamo preso l'Abissinia. Ecco, invece la vita di Rita era molto più semplice, questa foto è del 1937, ritratta in piazza Unità d'Italia, Trieste, Rita è questa e queste sono alcune delle sue amiche e sul diario di una sua compagna di classe si legge questo a proposito di questa fotografia. Sono innamorata di Robert Taylor, punto esclamativo, Robert Taylor era uno dei principali attori cinematografici americani dell'epoca, sono innamorata di Robert Taylor, punto esclamativo, tutta la mia classe ne è pazza, oggi dopo pranzo siamo andati a cercare una fotografia per tutte le cartollerie di Trieste, non l'abbiamo trovata, speriamo che arrivi presto e sul suo diario questa compagna di classe ha dipinto l'attore italiano Valenti che era molto popolare all'epoca e farà una fine drammatica a Milano nel 1945 perché insieme alla sua compagna Ferida, che era anche una famosissima attrice dell'epoca, lui era diventato ufficiale della Repubblica Sociale Italiana e vengono uccisi dai partigiani italiani insieme, quindi questa immagine così leggera, così spensierata, così allegra nasconde un futuro veramente drammatico e conclude la didascalia di questa compagna di classe di Rita, com'è bello essere giovani, com'è bella la vita, io sono felice come non mai, ma Rita doveva avere qualcosa dentro di non così semplice come le sue compagne di classe e lo vediamo da questa didascalia che sto per leggervi, allora vediamo sulla sinistra un pupazzetto di pannolenci vestito da olandesina, vedete che ha il fazzoletto in testa con le ali, è un po' rovinato il pupazzetto, però ha il grembiolino e vestita da olandesina, Rita aveva i capelli rossi, questo è un pupazzetto quindi autobiografico in certo senso, Rita aiutava la mamma ad assistere i profughi ebrei che scappavano dall'Europa centrale e venivano assistiti da un comitato di assistenza della comunità ebraica triestina che contava all'epoca circa 6.000 membri, per Trieste passarono molte decine di migliaia di profughi e venivano assistiti, alloggiati e rifocillati in attesa di poter avere i visti per l'espatrio, comprarsi biglietti per le navi eccetera eccetera e Rita aiutava la mamma cucendo delle bambolette di pezza e degli animaletti insieme con i figli, le figlie, principalmente le figlie dei profughi che scappavano dall'Europa, questi due pupazzetti sono gli unici sopravvissuti, Rita aveva un pupazzetto di questi con sé anche il giorno che venne uccisa sopra Verona, ma questi due pupazzetti di Rita li regalò a un suo spasimante, un suo giovane spasimante, un giovane alpinista dell'epoca che si chiamava Giovanni Bauer e che io ho avuto la fortuna di conoscere, molto vecchio, di intervistare, siamo anche diventati un po' amici, Giovanni Bauer la corteggiava, Rita non era particolarmente bella ma era vivecissima, aveva successo con i ragazzi perché era argento vivo come si usa dire e Giovanni Bauer fu un corteggiatore sfortunato e Rita gli regalò due pupazzetti, in uno si era autorappresentata e Giovanni ha conservato questi pupazzetti ed è rimasto legato alla famiglia di Rita al punto che poi nel dopoguerra curerà addirittura il funerale sia della mamma che del papà di Rita. Rita Rosani, qui c'è la sua firma, fa una dedica autografa all'amica Laura, compagna di classe, la data è del 1934, quindi Rita ha 14 anni e sentite cosa scrive alla sua compagna di classe, la sua compagna di classe è quella che ha fatto quella didascalia, allegra, spensierata, Robert Taylor eccetera e Rita invece scrive il mare della vita è borrascoso assai, a pochi è dato di superare in Columi le tempeste, ci vuole coraggio e costanza e ha sottolineato coraggio e costanza, possa tu carissima Laura ornata di tali doti, varcare le onde infide e lieta e sorridente a prodare a un sicuro porto, con affetto la tua compagna Rita Rosani. È un messaggio particolarmente compreso nel ruolo della vita da parte di una quattordicenne, probabilmente perché è una quattordicenne che ha già conosciuto le sofferenze dell'umanità, perché l'umanità dolente che scappava dalla Germania nazista l'aveva già conosciuta a Trieste e sottolinea che ci vuole coraggio e costanza e che bisogna cercare un porto sicuro, non sappiamo se il porto sicuro a cui Rita si voleva alludere fosse il matrimonio, che era lo scopo principale per cui venivano educate le ragazze all'epoca, oppure effettivamente un paese finalmente sicuro in cui vivere. Questo è il libro di ricette della famiglia Rosenzweig Rosani, conservato da Giovanni Bauer, sempre lo spasimante e deluso, forte alpinista che nel 1938, quando il club alpino italiano buttò subito fuori gli alpinisti ebrei dai ranghi dei soci, venne buttato fuori a calci nel sedere dal suo compagno di cordata che si chiamava Claudio Prato. Questo Claudio Prato, il libro si dilunga un po' su queste vicende dei giovani alpinisti escursionisti dell'epoca perché, anch'io vado in montagna, appassionatissimo, la montagna è qualcosa che si dice di solito unisce al di sopra delle idee diverse, eccetera, e questo è vero ma fino a un certo punto, come si vede nella storia che racconto, perché tra sloveni e italiani, tra ebrei e antisemiti, o ariani tra virgolette, tra partigiani comunisti e militi fascisti, magari iscritti allo stesso circolo alpinistico, non corse buon sangue e si arrivò fino alle estreme conseguenze, fino alle delazioni e alle uccisioni. Ho fatto questa disgressione, questo è il libro di cucina che la mamma di Rita aveva deciso di regalare a Rita nel compimento della maggiore età religiosa, gli ebrei diventano maturi al dodicesimo anno d'età con la cerimonia che si chiama Bar Mitzvah per i maschi e Bat Mitzvah per le femmine e al compimento quindi del dodicesimo anno la mamma di Rita regala questo quaderno che deve diventare il suo libro delle ricette, perché la mamma spera che Rita diventerà una brava donna di casa e troverà un buon marito che eccetera eccetera. Ma Rita aveva argento vivo in corpo e di questo quaderno delle ricette non ha voluto saperne, ha trascritto due ricette all'inizio e poi ha mollato tutto e la mamma ha finito per usare il libro per se stessa, per le proprie ricette. Qui vedete che scriveva le ricette, e sono riuscita a leggere fidatevi, in cieco, questa ricetta è scritta in cieco ed è scritta che è una ricetta del loro paese natale in Moravia, di Veseli, Veseli era il paese da cui venivano. Questa ricetta è scritta invece in italiano ed è stata data dalle signorine di Cinto, di Cinto Caomaggiore in provincia di Treviso nel Veneto dove la famiglia Rosani si è nascosta quando i tedeschi hanno conquistato Trieste dopo il 9, 8, 9 settembre del 43. Sono scappati, sono nascosti a Cinto Caomaggiore e lì la signora Rosani si è fatta dare anche delle ricette dalle persone che la nascondevano nel loro elogio. E infine ci sono le ricette in tedesco. Questa ricetta lei l'ha avuta a Merano ed è una ricetta che lei ha ottenuto nel 45 dopo la guerra. Ha rintracciato una cugina, l'unica cugina Hoffman che era sopravvissuta alla guerra, è andata a trovarla a Merano e ritrovandosi hanno parlato, dopo essersi raccontate i disastri dei parenti persi immaginate con che dolore, hanno ripreso anche un minimo di vita normale e la cugina Hoffman le ha dato una ricetta che la mamma di vita ha trascritto in tedesco. Nell'estate del 1938 Mussolini lancia il censimento obbligatorio degli ebrei italiani e anche i Rosani vanno al Tribunale di Trieste, questa è l'entrata principale del Tribunale di Trieste, a compilare, a autodenunciarsi come ebrei. Però la circostanza viene anche sfruttata amichevolmente dalle due famiglie, Rosani e Nagler, perché Rita si è fidanzata con Giacomo, con Cubi e si fotografano davanti all'entrata del Tribunale dove stanno per entrare a autodenunciarsi nel censimento. Pochi anni dopo, nel settembre del 1943, davanti all'entrata del Tribunale la scena sarà questa. Il Tribunale diventerà la sede del Gauleiter nazista, Trieste verrà in pratica annessa al Terzo Reich e ci saranno le SS. Questa è la famiglia del fidanzato di Rita, ripresa qui ancora in Galizia. erano benestanti, erano produttori e commercianti di attrezzi di lavoro, lime, seghe, segaci da legname, eccetera, utensileria. Avevano l'automobile che prima del 1920 era sintomo di notevole benessere perché erano poche le automobili all'epoca e Cubi, il nostro Giacomo Nagler e questo ragazzino in piedi, eccolo qua. E questa è la sua famiglia. Scappano a Trieste anche perché in Polonia sono cominciate le persecuzioni, non a livello di sterminio ma comunque a livello di pogrom, di bastonamenti e di vessazioni continue. Questo è il documento con cui Salo Nagler, il papà di Giacomo, viaggia dalla Galizia, arriva a Trieste. Ve la faccio accorta, ci sarebbero tante cose da dire. Il retro del documento è stato, perché questo è un pezzo di carta in pratica, leggero, insomma, scritto solo in polacco, mentre i documenti con l'Austria-Ungheria erano quadrilingui. Questo invece è polacco, ormai sono in Polonia, i polacchi sono nazionalisti, non amano gli ebrei, di grazia se gli danno un documento per espatriare. E la famiglia, per rendere il documento più stabile e più duraturo, ha incollato sul retro, con la colla di farina, un pezzo di scialle, un vecchio scialle da preghiera. Questo si chiama Talit. Gli ebrei osservanti in sinagoga si coprono il capo per pregare con uno scialle bianco a righe nere o qualche volta blu, più spesso nere. E hanno riutilizzato, riciclato un vecchio scialle da preghiera per rendere più solido il documento. Qui siamo a metà degli anni 30 a Trieste, Giacomo, allegro e beato, con i suoi amici. Alcune di queste ragazze erano anche amiche di Rita. Questa qui è stata mia professoressa d'inglese, al liceo scientifico che ho frequentato a Trieste. Quindi capite che non sono coinvolto ufficialmente, ma vengo da questo mondo in qualche maniera. Tra l'altro non era per niente simpatica, ha detto tra noi. Erebrea anche lei, si chiamava Eva Ratto. Questo è Cubi, Giacomo, con le famose scarpe che sono state trovate a Palazzo Cavaccini. Via Pascoli 5 a Trieste, casa sua. La casa e il portone sono identici a come sono adesso. È commovente vedere il posto. Infatti, a mio scopo ve li ricordo, mi sono fatto fotografare, mi sono vestito di bianco e mi sono fatto fotografare proprio con la stessa posa, con la mano sulla maniglia. Forse sono stato preveggente perché il giornale Il Centro è uscito l'altro giorno con una recensione anche del mio libro e sotto la fotografia di Giacomo Nagler hanno scritto Livio Sirovic. Io mi sono identificato con lui nello scrivere e alla fine non so perché il mio nome è passato sotto le sue fotografie. Questa è la pubblicità del loro negozio a Trieste, via San Nicolò numero 12, una via centrale molto elegante oggi. Nel 1938 hanno perso tutto perché le leggi razziali li hanno obbligati a mollare il negozio, non avevano più diritto di tenere un negozio. Tra l'altro tenete presente che quando parliamo di ebrei stranieri, non parliamo solo di ebrei appena arrivati in Italia con un altro passaporto, ma parliamo anche di tutti gli ebrei che avevano ottenuto la cittadinanza dopo il 1919. Tutti i costoro hanno perso la cittadinanza per legge nel 1938, hanno perso la cittadinanza se l'avevano acquisita dopo il 1919. Anche Rita Rosani e i suoi genitori perdono la cittadinanza anche se erano diventati cittadini italiani già negli anni venti. Invece i Nagler avevano conservato il passaporto polacco. Arrivano le leggi razziali, questi sono i soliti titoli di giornale ed ecco che al liceo di Rita vengono espulsi le studentesse da un liceo femminile, esclusa dalla scuola per questioni di razza. Questo non è il certificato di Rita di una sua compagna, ma erano così insomma, venivano buttati fuori. Il tono era ultimativo, vi leggo questa frase perché colpisce. Qui è il provveditore degli studi di Trieste che scrive ai presidi, nell'autunno del 1938, sono appena uscite le leggi razziali e il provveditore scrive direttori delle scuole private di istruzione media ci daranno assicurazione sotto la loro personale responsabilità, ove non l'abbiano già fatto, che negli istituti da essi diretti non vi siano alunni di razza ebraica, né personale insegnante e non insegnante di razza ebraica, che presti comunque servizio. Del pari, gli ispettori scolastici mi daranno analoga assicurazione per le scuole private elementari esistenti nell'ambito della rispettiva circoscrizione. Sono ordini questi, non sono inviti. Il club alpino italiano si affretta a mettersi in riga. Il 17 novembre 1938, sette giorni dopo l'uscita delle leggi razziali, cioè tamburo battente, quando non era ancora obbligatorio farlo, perché l'espulsione del club alpino italiano diventerà obbligatoria dopo parecchi mesi, ma il club alpino di Trieste vuole far vedere di essere più realista del re e quindi emana un comunicato stampa che il giornale di Trieste, il piccolo, recepisce e pubblica infatti. Anche il centro alpinista, non si chiamava più club alpinistico per club alpino perché club è una parola straniera, quindi si chiamava centro, ma è sempre il CAI di cui io sono socio da moltissimo tempo. E questa è la mia sezione che mette questo annuncio, è la mia sezione. Anche il centro alpinistico è purato dei soci ebrei. Veniamo informati che rapidamente, radicalmente, anche la sezione di Trieste del centro alpinistico italiano è purato le proprie file dagli elementi di razza ebraica. E come vi anticipavo, il compagno ricordato di Giovanni Bauer, il corteggiatore di Rita, ha buttato fuori dalla sede a calci il suo compagno ricordata. Questo Claudio Prato, che ha commesso questo gesto, credeva di avere una grave coda di paglia, il suo cognome, Prato. È un tipico cognome ebraico, i cognomi di città spesso sono nomi di ebrei. E in quel momento il rabbino capo di Roma si chiamava Prato. Quindi lui, fascista, convinto, voleva sottolineare la propria arianità e quindi in prima fila ha buttato fuori i compagni di alpinismo ebrei, perché si chiamava Prato e la cosa era imbarazzante. Ed ecco, qui siamo a Roma, Palazzo Venezia, questo è il duce, lo vedete, riceve, siamo nell'autunno del 1939 e Mussolini celebra il primo anno dall'entrata in vigore delle leggi razziste e per celebrare l'avvenimento ha ricevuto il consiglio direttivo dell'Istituto di Mistica Fascista di Milano. Qualche volta, cercando di ripercorrere queste storie, riesce difficile entrare nella mentalità dell'epoca. Istituto di Mistica Fascista vuol dire che il regime pensava che gli iscritti ai discorsi del duce andavano meditati, imparati e celebrati come gli iscritti dei santi, la mistica, come gli iscritti dei santi e a Trieste uno dei tanti fascisti nostri, Niccolò Gianni, socio del mio circolo alpinistico, aveva pensato di fondare l'Istituto di Mistica Fascista e per fare le cose in grande lo fondò a Milano. Quindi l'Istituto di Mistica Fascista di Milano, fondato nel 1935, credo, 1936 attorno all'impero, era stato fondato da un nostro consocio alpinista triestino. E qui il duce riceve i componenti del Consiglio Direttivo dell'Istituto di Mistica Fascista e consegna formalmente le chiavi della nuova sede dell'Istituto di Milano per celebrare il primo anno di entrata in vigore delle leggi razziste. Sulla destra vedete in ginocchiato un altro dei miei consoci alpinisti dell'epoca, Paolo Goitan, che io ho conosciuto personalmente perché ho scritto questo libro di educazione naturalistica che è dedicato a una mia carissima amica morta in montagna, si chiamava Tiziana Weiss, all'epoca fu una delle due più forti alpiniste italiane. Per organizzare questo sentiero alpinistico dedicato a lei e scrivere il libro facevamo delle riunioni periodiche perché il sentiero che è dedicato a lei fu scavato manualmente da una trentina di persone, di amici, eccetera. Facevamo delle riunioni in sede e uno dei dirigenti anziani del circolo che ci dava ospitalità era Paolo Goitan, che all'epoca era un settantenne arzillo, dinamico, scattante, frenetico, col pizzetto pepe sale, simpatico e gioioso. Io non sospettavo che avesse questa storia e vediamo che storia è. Lui era il direttore di questo giornale, aveva 31 anni all'epoca e dirigeva questo giornale degli universitari fascisti, si chiamava Razzismo Fascista, questo è il numero del 18 novembre 1939 che celebrava il primo anno di entrata in vigore delle leggi razziali. Il giornale è uscito nell'occasione del ricevimento a Palazzo Venezia del Consiglio Direttivo che avete visto prima. Cosa scriveva questo giornale? Scriveva, dice che gli ebrei sono stati epurati, dice che c'era una volta a Trieste un ebreo, purtroppo ce n'erano tanti e ce ne sono tanti ancora, loro si lamentano che l'epurazione non è stata sufficientemente dura. La loro eliminazione, cioè degli ebrei, anche se parziale, ha liberato l'Italia di un peso che ormai di fronte alla riacquistata coscienza, coscienza razziale, era troppo grave. Il regime sosteneva che c'era una razza italiana, che era una razza ariana e che era una razza superiore. Dice il giornale che la coscienza della superiorità della razza ariana su tutte le altre ormai è consolidata, anche in Italia e così si rivolge agli ebrei. Voglio leggervi questa cosa perché è incredibile, è peggio di quanto si scrivesse in Germania nella stessa epoca. Così scrivevano rivolgendosi agli ebrei e avevano avuto vari ebrei nel circolo alpinistico, persone con cui andavano alle festiciole, andavano in montagna. A questi falsi italiani, falsi italiani è scritto in eretto per sottolineare, a questi falsi vivi, indegni del nostro odio ma ben degni del nostro disprezzo, lanciamo un monito. A stroncare la loro subdola attività non esiteremo se sarà necessario di fronte a nessun provvedimento, anche se energico. Ritorneremo se sarà necessario al santo manganello e a quell'impareggiabile disintossicante integrale che è l'olio di ricino e gli universitari fascisti saranno in prima linea. Il direttore responsabile era mio amico Paolo Goitan. Questo è lo salto, ci fu un momento nella primavera del 1940 in cui Mussolini comunicò agli organi esecutivi e al capo della polizia che gli ebrei andavano internati in campo di concentramento e nell'ordine che venne diramato non si capiva se Mussolini voleva mettere in campo di concentramento tutti gli ebrei o solo quelli stranieri perché l'aggettivo stranieri era rimasto nella penna, ci fu un attimo di incertezza. Poi le cose furono messe in chiaro e quindi arriva l'ordine telegrafico del capo della polizia Bocchini che dice appena vi sarà posto nelle carceri ciò che dovrà ottenersi eccetera eccetera insomma l'ordine di metterli in carcere e così anche il papà di Kubi finisce subito in carcere e come è stato già detto una settimana dopo venne messo in carcere anche il figlio Kubi. Questo è il campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, questo è un vero campo col filo spinato, col recinto di filo spinato e con alcune garritte per le sentinelle, le baracche eccetera. Ma questa è la fotografia del 1943, quando ci arrivò Kubi nel luglio del 1940 non c'era praticamente niente, Kubi fu costretto a partecipare alla costruzione del campo e cominciarono dalle latrine che furono scavate con le fosse biologiche dai prigionieri. Si trattava di insegnanti, di commercianti, gli ebrei stranieri, qui ci sono capitati dei medici, degli avvocati, anche persone che non avevano mai usato un piccone in vita loro e furono costretti a costruire il campo. Ed ecco che arrivano le prime lettere al campo di Ferramonti, destinate a Giacomo Nagler, campo di concentramento a Ferramonti, provincia di Cosenza eccetera. La prima lettera viene subito censurata, il campo di Ferramonti era sorvegliato da un reparto della milizia fascista che si segnalò per il rigore e anche la cattiveria nei confronti dei prigionieri. La prima lettera che Rita scrive a Giacomo arriva a Giacomo completamente amputata di tante frasi, erano due fogli che sono ridotti a Brandelli, ma se guardate cosa è stato tolto, è stata tolta la data, caro Cubi amore mio, e poi pezzi a caso perché lei non scriveva lettere compromettenti, le lettere di Rita sono piuttosto banali, quando scriveva sapeva che la censura leggeva e quindi non si lasciava andare né a notizie imbarazzanti per il regime né a particolari smancerie affettuose perché si vergognava, erano lettere sto bene, sto male, ho mangiato, faccio le cose eccetera eccetera e però la censura interviene comunque e vedete sono intervenuti con una forbicina per le unghie, qui si vede la seghettatura della forbicina per le unghie che hanno usato per tagliare le frasi, tagliare frasi del tutto innocue. Il reparto della milizia che faceva guardia al campo di Ferramonti aveva come patrona, insomma aveva eletto la Madonna del Manganello, protettrice dei fascisti, c'era alla mezza terme, in questo momento non mi ricordo più la chiesa, questa è una foto trovata da Mimmo Franzinelli, famoso storico, meraviglioso storico del suo libro Squadristi, la Madonna del Manganello che dopo il 1943 è scomparsa, quindi la Madonna non è che l'hanno ritoccata, l'hanno fatta sparire perché la Madonna col Manganello insomma non andava tanto bene. E qui Salo arriva a Casoli, questa è una cartolina che probabilmente conoscete, insomma una cartolina di qualche anno dopo, io da forestiero non so se questi costumi all'epoca venivano ancora un po' indossati oppure qui li hanno indossati solo per la fotografia, mi pare che questa era una salita da Est, dal Sangro direi, dal Sangro e questa è la famosa foto che, facciamo una parentesi, questa foto l'ho data io a Giuseppe però ce n'erano anche altre copie, questa era in migliori condizioni, l'ho data a TEP, io quando ho visto che c'erano delle iniziative a caso li ho dato subito, senza fare grandi storie sulla paternità delle immagini, perché questa foto faceva parte dei documenti che la famiglia Nagler consegnò alla mamma di Rosetta Weintraub nella scuola di Castelfrentano, occasione nella quale la mamma di Rosetta incanutì. I Nagler poveretti avevano capito che i documenti non gli servivano più e quindi consegnarono un pacco così di documenti che conteneva foto di famiglia, certificati di nascita delle sinagoghe in Galizia, i passaporti, le carte di identità, tutto, consegnarono tutto quello che avevano alla mamma di Rosetta, la mamma di Rosetta ha conservato questa cosa per 50-60 anni, finché ha trovato me, o meglio io ho trovato lei, poi ho recuperato negli Stati Uniti un mio collega di lavoro, un oceanografo a Norfolk in Virginia, che era primo cugino di Kubi Nagler e quindi Rosetta Weintraub ha deciso che tutti i documenti in originale andassero al parente più stretto dei Nagler che si trova negli Stati Uniti, che è un intellettuale di notevolissimo livello. L'anno che l'ho trovato lui aveva uno degli articoli scientifici più citati nel mondo, nel campo della statistica se non mi ricordo male, ed è anche un cultore di storia, quindi i documenti sono finiti nelle mani giuste, spero che poi andranno magari a Washington. Tra l'altro c'era questa fotografia, ed ecco una delle lettere che Rita ha scritto a Kubi, anzi questa è scritta a Salo direttamente, a Salo Nagler, qui a Casoli. Questa è una delle lettere che Mr. X, che ha sottratto tutto il pacco di lettere a casa Cavaccini, poi alla fine mi ha regalato personalmente, perché delle altre io non ho gli originali, ho solo le fotocopie, ma di queste ho gli originali. Questa foto è per le mie presentazioni in giro per l'Italia, per chi non conosce Casoli cerco di far vedere che Casoli è un gran bel posto in cui bisogna andare. Un gruppo di sci alpinisti triestini, io faccio sci alpinismo, un gruppo di sci alpinisti triestini su mia indicazione è venuta a fare il Monte Amaro, con cui non bisogna scherzare, soprattutto quando ghiaccia, sta molto attenti. Questa foto è conosciuta, questa è una delle cartoline che Kubi Nagler ricevette dai suoi compagni, chiamiamolo di prigionia, quando nel maggio del 41, maggio-giugno, adesso non mi ricordo il mese esatto, gli ebrei furono mandati via da Casoli, distribuiti in altri campi di concentramento, al confino, vennero mandati via perché qui dovevano arrivare gli sloveni, i civili sloveni fatti prigionieri in giro per la ex Jugoslavia e quindi però i legami di amicizia stretti tra Kubi e altri ex detenuti di Casoli perdurarono e qui per esempio c'è Siegfriedo Lager che scrive una cartolina di saluti a Giacomo che ormai è nato a Castelfrentano, non è più a Casoli, si è ricongiunto col papà e la mamma a Castelfrentano. Vedete queste sono le cartoline, io non mostro queste cartoline agli storici, le mostro alle persone normali come me, le cartoline che all'epoca si mandavano avevano scritto vinceremo, vinceremo e sotto banco i primi antifascisti dicevano col C che vinceremo, però vinceremo insomma. Nel frattempo a Trieste monta l'antisemitismo, qui vedete le entrate della sinagoga deturpate con la tracciatura di croci, questo è particolarmente imbarazzante perché ci fu una contestazione che non era strettamente nazista, fascista, era anche religiosa da parte del cattolicesimo tradizionalista che non aveva in simpatia agli ebrei per motivi religiosi, quindi la profanazione è mista, politica ma anche religiosa, qui c'è un negozio di scarpe, uno dei più belli della città, rovinato nel 1941, anzi ecco questa è una fotografia, è una delle fotografie del matrimonio di una delle migliori amiche di Rita e guarda caso migliori amiche anche di mia madre, lei si sposò precocemente un po' nel giugno del 1942, ormai era chiaro che le cose buttavano male, molti ebrei triestini erano già scappati a causa delle leggi razziali del 1938 e anche loro volevano emigrare, quindi per emigrare hanno accelerato il matrimonio, hanno deciso che stavano bene insieme e quindi hanno detto ci sposiamo perché senza essersi sposati all'epoca era difficile viaggiare, anche per questioni di convenzione sociale tra le famiglie, quindi si sposano, però la sinagoga è stata appena profanata, qui è l'uscita laterale della sinagoga di Trieste, sembra una circostanza normale, vedete le persone ben vestite per il matrimonio, però la foto successiva ci fa vedere la porta da cui sono usciti, è questa e durante la profanazione sono state disegnate una svastica, un fascio dittorio e sulla porta, allora la porta era già stata frantumata in un pogrom precedente ed era stata protetta con un tavolato di legno e questa volta sul tavolato di legno sono state dipinte delle croci cristiane che naturalmente sono incompatibili con un edificio di culto ebraico e infatti gli addetti alla sinagoga cancellano il giorno stesso in serata, cancellano le croci dal tavolato che difende la porta ma non hanno il coraggio di cancellare la croce uccinata e il fascio dittorio e infatti la prossima fotografia ce lo mostrerà, cosa succede? Che i due fidanzati si sposano, però il matrimonio avveniva in due tempi perché il rito era tra ebrei e poi veniva trascritto l'anagrafe, quindi il giorno dopo c'è il matrimonio anagrafico e loro per una circostanza che non so poi tornano anche in sinagoga, forse a porre la propria firma, c'è un rito doppio, quindi il giorno dopo sono di nuovo vestiti a festa con meno invitati, solo i parenti e vengono in sinagoga e questa è la fotografia, vedete adesso ci sono le croci, il giorno dopo non ci sono più le croci, sono state grattate via, si intuisce forse un'ombra di croce ma la croce non c'è più, svastica e fascio dittoria ci sono e la fotografia è bruciata, perché è bruciata? Perché appena usciti in strada, qui c'è un portico, qua sopra c'è un portico, appena usciti in strada gli invitati sono stati affrontati dagli squadristi fascisti che presidiavano la sinagoga, i quali hanno preso la macchina fotografica del tizio che aveva scattato le fotografie e l'hanno aperta per rovinare le foto e questa è la prima scattata appena usciti dalla porta e quindi era arrotolata dentro ed è l'unica sopravvissuta del rullino, perché l'arrotolamento ha protetto dalla luce solo metà dell'immagine, è un'immagine veramente incredibile, gli sposi sono contenti però hanno la sinagoga profanata e la fotografia poi rovinata. Quando la famiglia Nagler viene catturata a Castelfrentano viene poi rinchiusa alla fine in una specie di campo di prigionia a Chieti, adesso qui l'aiuto degli storici esperti di cose anche locali è importante perché io non ho mai approfondito dove fosse questo campo di prigionia anche per militari alleati credo, fatto sta che nel novembre del 1943 la famiglia Nagler manda due cartoline alla famiglia Rulli di Castelfrentano, sono cartoline, sono gli ultimi segni di vita della famiglia Nagler, due cartoline e è evidente che hanno paura però hanno la possibilità di mandare due cartoline e si firmano ingenuamente con nomi falsi e evidentemente vogliono comunicare qualcosa a un certo Arturo di Castelfrentano che non ho capito chi fosse, loro avevano affittato una camera presso la famiglia Rulli e quindi vedete adesso vediamo il retro della cartolina cosa c'è scritto, allora alla signora Maria Rulli per Arturo, scusate ho avuto un cedimento di memoria, un piccolo ictus dato all'età, Arturo era Arturo Weintraub, il papà di Rosetta Weintraub, scusate Arturo era Arturo Weintraub, cioè la famiglia dei loro carissimi amici, quelli a cui avevano consegnato tutti i documenti, quindi i poveri Nagler indirizzano questa cartolina alla famiglia Rulli ma è per Arturo e Salo si firma ingenuamente con un nome falso, perché Giacomo Nagler si firma Giacomo Modigliano, non mette Nagler sia perché un cognome straniero avrebbe dato nell'occhio sia perché forse non aveva il permesso di mandare questa cartolina, l'ha fatta uscire attraverso chissà chi. La successiva è proprio l'ultima, sempre alla famiglia Rulli per Arturo Weintraub a Castelfrentano e qui Salo ha commesso una ingenuità tenera, incredibile, vedete ha firmato Salo, stava per scrivere Nagler, qui c'è una pozzo di N che poi ha cancellato con la matita provocando anche una piegatura nella cartolina, nel cartoncino, perché poi ha aggiunto questo cognome falso Bucci, tipico cognome penso locale, quindi si è firmato come Salo Bucci, è anche cancellato, ha rovinato la cartolina, i Nagler erano stanchi, lui aveva la flebite, avevano forse preso uno, aveva preso la malaria forse, comunque erano stanchi, non avevano più soldi, erano anni che stavano, a Casoli e poi a Castelfrentano dal 1940, sono 3 anni, non ne potevano più, hanno avuto la possibilità di fuggire, quando sono stati catturati, sono stati affidati a personale italiano della Repubblica Sociale, sono stati portati all'Aquila, all'Aquila l'incaricato li ha sostanzialmente invitati a fuggire, li ha lasciati liberi, andate, arrangiatevi, sparite, non fatevi più vedere, ma c'era un sacco di neve, l'Aquila era bloccata e loro non se la sono sentita, hanno avuto paura, non si sa, molti altri, quasi tutti sono scappati, sono nascosti presso varie famiglie e loro invece si sono riconsegnati e lì è stata la loro fine. Questo è l'ordine di polizia del 30 novembre 1943, la faccio breve, non sto a leggere, questo se lo ricordano tutti gli ebrei italiani perché ormai c'è la Repubblica Sociale, il 30 novembre 1943 viene emanato l'ordine di polizia numero 5 in base al quale tutti gli ebrei a qualsiasi nazionalità appartengano, anche se appartenenti a paesi alleati, quindi tedeschi, devono essere mandati in campo di concentramento, fine della storia degli ebrei italiani secondo la Repubblica Sociale Italiana, questo è l'ordine di polizia del numero 5 famosissimo purtroppo. E veniamo alla fine della storia, dunque i due fidanzati rompono il fidanzamento circa nel 1942, sono due anni che sono separati, non può andare avanti, non possono neanche scambiarsi smancerie, non possono scriversi ti voglio bene, ti amo eccetera eccetera perché si vergognano, perché la censura li controlla, poi in realtà sono giovani e sia lui e probabilmente anche lei hanno avuto qualche avventuretta per conto loro separatamente. A Trieste Rita prende una brutta sbandata per un professore della scuola ebraica, non entro nei particolari e lo troverete nel libro e lui probabilmente ha una storia qui a Casoli e questa storia emerge vagamente dalla corrispondenza. Sapete, gli ebrei, diciamo quelli più giovani che erano a Casoli erano bene accetti dalla popolazione, erano ragazzi colti, ben vestiti, li avete visti, spesso sapevano suonare strumenti musicali, avevano coltura eccetera e alcune famiglie li hanno accolti bene, qualcosa probabilmente deve essere successo. Il fatto sta che il Podestà ha preso anche dei provvedimenti contro Kubi perché intratteneva qualche rapporto troppo intenso con un ragazzo del posto, una ragazza, non si sa, una in particolare. Nel libro questa cosa viene ventilata in maniera con nomi falsi però qualcosa c'è stato. Il fatto sta che viene rotto il finanziamento e arriviamo all'8 settembre 1943, Trieste viene annessa al Terzo Reich, Rita sa che la famiglia è nel mirino dei tedeschi perché lei ormai ha intrattenuto qualche attività, ha svolto qualche attività a favore dei profughi ebrei che vogliono anche scappare in Svizzera e c'è una spia famigerata ebrea, il figlio del Sarto Grini che ha a bottega nella stessa via loro di Kubi, Kubi è il numero 12 e questo Sarto ha a bottega il numero 30 della stessa via ed è una spia spietata che vende i coreligionari a 5.000 lire al pezzo e ne ha venduti circa 250, guidando le SS a Venezia fino a Torino e nel Veneto. Rita sa che è questo ragazzo che è il figlio del Sarto che ha poco più di 30 anni e nel giro delle loro conoscenze, Rita è amica della figlia del poeta Saba, Linuccia Saba e anche loro sono quasi un po' amici di questo Sarto, sanno che bisogna stare attenti perché è uno un po' fuori di testa, fascistissimo, ebreo ma fascistissimo, forse un confidente dell'ovra, un personaggio equivoco, balordo. Quindi Rita scappa, convince i genitori a scappare e non sapendo per il momento dove andare vanno a Lignano, località di villeggiatura che nella prima metà di settembre ormai è quasi spopolata. Contemporaneamente c'è un tenente colonnello dell'esercito italiano, questo qui, che sta viaggiando in treno per andare in Dalmazia a prendere il comando di un reggimento di artiglieria. Sbarca a Trieste, va a dormire all'hotel Impero in piazza della stazione e capita l'8 settembre. Lui va al comando di presidio, vicino a casa mia, e va a parlare col generale Esposito perché lui vuole organizzare la resistenza contro i tedeschi. Hanno scritto gli storici che c'erano talmente tanti militari italiani a Trieste che sarebbe stato che soffiassero tutti insieme, tutti insieme avessero soffiato contro i tedeschi e li avrebbero scaraventati lontano. E invece il generale Esposito ha già deciso di calare le bracche. Lui, che è un fegataccio, si arrabbia, stavo per dire un'altra parola, si arrabbia fortemente e comunque capisce che non c'è più. Lui aveva preso il fucile e un paio di bombe a mano e insieme ad altri due era dato al comando di presidio a dire adesso li cacciamo via. Invece le cose vanno diversamente. Quindi anche lui si mette in borghese, si mette in treno, arriva dalle parti di Latisana, i ferrovieri li avvertono, guardate che prima di Latisana c'è un posto di blocco dei tedeschi che portano tutti quanti in Germania. Quindi fanno fermare il treno, i ferrovieri, fermano il treno in aperta campagna in modo che i militari borghese possano scappare e lui si ritrova in aperta campagna. Passa una corriera, la fermano e si ritrova a Lignano. a Lignano ha scritto un libro di memoria, ha avuto il buon gusto di scrivere un libro di memoria che io ho acquisito e mi è servito moltissimo e lui racconta che era un ufficiale italiano normale che aveva i suoi bravi pregiudizi antisemiti addirittura. Infatti lui racconta, capito a Lignano e mi accorgo che è pieno di turisti, ma chi sono questi che festeggiano, qui vivono, non è più stagione di turismo, ma sono tutti ebrei. Ah sì, quello lì ha le tipiche fattezze della razza ebraica. Sì, sì, guarda, guarda, guarda che sono ebrei. E tra questi ebrei c'era uno con i capelli rossi che ballava, cantava, era vivacissima, scoppia la scintilla, lui ha deciso di fare il partigiano, lei anche vorrebbe ribellarsi in qualche modo, non sa, e l'amore favorisce questa avventura amorosa e combattentistica. e qui è lei, nelle ultime settimane di vita, è molto trasformata, è improvvisamente maturata. Chi l'ha conosciuta? Io ho parlato con le persone che l'hanno conosciuta durante la clandestinità nella zona del Valpolicella, parlano di lei come di una donna matura, affettuosa nei confronti di tutti, accogliente, intelligente, saggia. Una famiglia che l'ha nascosta nella clandestinità ha conservato religiosamente alcuni suoi vestiti che io ho visto, hanno conservato nel loro armadio di casa. E qui lei si fotografa, lui, il tenente colonnello di prima, fotografa lei, lei fotografa lui e sono le ultime, ecco vedete, questa è del 10 agosto 1944, questa fotografia era stata fatta originariamente per i documenti falsi che sono stati prodotti dall'anagrafe di Verona, che gli ha dato dei documenti falsi. E questa è la baita sul monte comune, si chiama Busa della Pacioca, nella quale questo gruppo di partigiani, erano 14, si è nascosto nel settembre 1944 perché Radio Londra ha annunciato che ci sarà un lancio di armi e di soldi a sostegno della resistenza sul monte comune. Monte comune perché era ritenuto il posto adatto per un lancio, perché era poco più che una collina alta, nuda e quindi il lancio si sarebbe visto. E loro si acquartierano qui, però il lancio non arriva, non arriva, non arriva, loro sono qui, non arriva, la zona è anche troppo visitabile, c'è qualche spia, leggerete, insomma sono avventure. Prima dell'alba del 17 settembre 1944 arrivano 130, 110 militari italiani e 20 tedeschi e fanno un rastrellamento, li sorprendono, i tedeschi e i fascisti italiani vengono su da qua, dal fondo valle che è qua, loro hanno una sentinella posizionata qui, la quale effettivamente dà l'allarme, però loro dormivano vestiti, solo le scarpe si erano tolti, si rimettono le scarpe, escono e commettono l'errore tragico di tentare di resistere, sparano, perché qui c'è un piccolo rilievo, così, e dopo c'è la discesa e loro da qui sparano contro quelli che salgono, commettono questo errore drammatico e così perdono tempo e dovrebbero sganciarsi subito invece, sono 14, quegli altri sono 130, allenati, mentre questi sono disorganizzati, hanno anche poche armi e la fuga deve venire di qua, fuori dalla foto, in salita, questo bosco è cresciuto dopo, all'epoca c'erano pecore eccetera, era nudo e devono scappare in salita per di qua, lei è l'ultima che si allontana, continua a sparare contro, in sostanza quasi protegge la ritirata dei compagni, il suo compagno, il tenente colonnello, che era riduce di Luzia era un fegataccio, però ha tagliato la corda, probabilmente ha più esperienza di guerra, nel trambusto, nello stress estremo con palottole che fiscano tutte le parti, lui è scappato e lei è rimasta ferita, come vi dicevo. Un partigiano diciottenne, Dino Degani, diciottenne, a cui il papà aveva regalato un mitragliatore Sten, è scappato anche lui, però quando ha visto che c'era Rita ferita per terra, è tornato indietro, col suo Sten pensava di essere invulnerabile, era l'unico che aveva un'arma a ripetizione in questo gruppetto, viene ferito due volte alla spalla e nonostante ciò tenta di aiutare lei a risalire e nel tentativo di portarla su viene ferito al gluteo e alla fine, insomma, vengono catturati tutti e due, feriti e tutti e due vengono finiti, uno da quell'ufficiale che vi ho detto e uno da un altro che si chiama Tormene. E questo è il biglietto che il parroco della zona riesce a far recapitare alla famiglia di Rita a Trieste. C'erano canali strani attraverso i quali si riusciva a comunicare, il prete probabilmente attraverso i canali ecclesiastici, non so come conosceva l'indirizzo della famiglia, però sapeva che era della comunità ebraica triestina e quindi questo biglietto ha raggiunto la comunità ebraica triestina, non so come e c'è scritto signor Lodovico, che è il papà di Rita, Lodovico Rosani, signor Lodovico, se non vi fu ancora comunicato sappiate che in seguito a incidente la vostra figlia Rita sta male, è molto male, nella vita specialmente per alcuni quasi continue sono le pene e ben poche le ore liete, non siamo fatti per questa terra, puntini puntini, 20 settembre 1944 Rita è morta tre giorni prima, questo è il biglietto in cui comunica ai genitori che è morta in sostanza. Eccoci, fine. allora è tarda, mai è successo che siamo riusciti a tenere l'attenzione per tutto questo tempo, è la prima volta, veramente è stata la prima volta ma è stata veramente una serata intensa e ricca ed impegnativa. Io non voglio dilungarmi su pensieri aggiuntivi, voglio ringraziare Livio, il professor Orecchioni, la preside della Morgia, la presidente Ampi, la signora Cecilia e Giuseppe Laurentini e tutti quanti voi per essere stati molto attenti, presenti e in questi due giorni di particolare emozione per me e interesse che abbiamo dato un po' alla nostra cittadina, agli eventi e agli avvenimenti che si sono susseguiti un po' nella seconda guerra mondiale e voglio in ultimo ringraziare tutta l'amministrazione comunale che effettivamente partecipa intensamente a questi eventi e voglio ringraziare le scuole, le scuole che effettivamente danno quel sostegno veramente importante a tutti, sia con la partecipazione, sia con la divulgazione, sia con l'impegno che i ragazzi, i docenti, i dirigenti riescono a dare e ad arricchire i nostri avvenimenti. Quindi buona serata a ognuno di voi e grazie e un caro abbraccio a Livio.